Ciao a tutti e bentornati sul canale. Io sono Stefania ed oggi voglio condividere con tutti voi il procedimento per realizzare dei centrotavola davvero semplicissimi che abbelliranno la tavola durante le festività natalizie. Per realizzare uno dei centrotavola occorrono 5 mazzetti di bacche, un vaso della forma che preferite, meglio se bianco, e del filo di cotone. Vediamo ora come realizzarlo. Con il filo di cotone leggo le estremità dei 5 mazzetti di bacche. Piego leggermente queste estremità e le inserisco all'interno del vasetto. Ora posiziono al centro del vasetto la composizione appena creata. Ed il gioco è fatto, il risultato è proprio quello che vedete. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!